Ciao ragazzi sono Simon88, guardate cosa è uscito, il personaggio speciale XL della Marvel Movie Collection che stiamo continuando sul mio canale. Quindi ragazzi per non perdere il video iscrivetevi così quando arriverà il video siete sempre aggiornati. Allora l'ho già aperto vi faccio vedere qua, questa è la statuetta e questo è il fascicolo, Jantaman numero 26, vi ricordo che se volete vederlo basta iscrivetevi sul canale che presto arriverà il video. Ciao ragazzi vi aspetto.